Salve, sono Antonio Rocco. Forse vi ricorderete di me per film come Se il mondo intorno crepa o Italiane dei, serie tv come I Medici o per l'ultima pubblicità dei film western sulla Rai. Ebbene sì, faccio. L'attore, non mi riconoscete? Benissimo. Autocontrollo, spirito d'osservazione, coraggio, ritalento, logica e velocità di pensiero. Sei sempre qui. Antonio Rocco, vince il novienus. Yassi, vai. So what a better occasion for me to stay here and tell you how much I really love to fly to Los Angeles and tell you all my adventures there trying to break into Hollywood. Follow me, seguitemi sui miei canali, sul mio blog, sui miei social and let's keep in touch. Ciao. Salve, sono Antonio Rocco. 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 Grazie a tutti.